Mettila dietro, stai la, non ti muore più, vieni Franco, vieni Franco, vieni, guarda loro, vieni al banner, fatti le foto, allora ascoltate ragazzi, uno alla volta, aspetta, non come me, c'è il chiamato che sta arrivando, ragazzi, allora Franco aspetta, prima Francesco di là, alza la mano, Francesco si è per noi, poi tutti gli altri, fate le foto, come dico sono in uscita con il mio thriller da sopra, con un libro rudo e cattivo, vediamo cosa succede, Mauro guardami la borsa di Franco 30 lanci, Franco?